Recensione di Linux Mint 22, la nuova versione del sistema operativo più popolare ed apprezzato da neofiti di Linux, ma non solo, è più aggiornata e sicura che mai. Facciamo una panoramica per chi ne ha solo sentito parlare, poi vediamo l'evoluzione recente per chi lo ha perso di vista e infine le novità dell'ultima versione per i tantissimi che lo usano già con soddisfazione. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Linux Mint è una garanzia dal 2006 quando fu rilasciata la prima versione. Un sistema operativo gratuito, trasparente nei meccanismi, che non ti spia, non ti ruba dati e non cerca di venderti nulla. Tutto questo è possibile grazie a donazioni e sponsor e ad un team di generosi programmatori coordinati per realizzare un software che essi stessi intendono usare e lo mettono a disposizione di chiunque altro lo desideri. La semplicità di installazione, che consente, volendo, di affiancarlo automaticamente a Windows nello stesso computer senza necessità di configurare nulla né aggiungere programmi per fare subito di tutto, unite alla completezza, snellezza e facilità di utilizzo senza rinunce, ne hanno fatto negli anni un sistema operativo forse meno famoso di Ubuntu ma spesso più apprezzato. Un computer dell'era di Windows 7, quindi con almeno 4 GB di RAM e vecchio fino a 15 anni, potrà funzionare ancora più che dignitosamente con Linux Mint senza costringerti a cambiarlo da chi ha interessi a venderti continuamente PC e licenze software. Sono infatti previste tre differenti edizioni di cui la Cinnamon è quella ammiraglia. Ci sono anche la Mate e XFCE che hanno aspetto simile, sottili differenze in alcuni meccanismi e si adattano meglio a PC meno performanti o preferenze estetiche differenti. Linux Mint è consigliato spesso, tra le migliori alternative a Windows e Mac OS, per sottrarsi alle logiche dell'obsolescenza programmata e all'arroganza delle grandi aziende tecnologiche. Oltre a semplicità e leggerezza, unite ad un aspetto sobrio e gradevole, sono la stabilità e l'affidabilità a lungo termine, a renderlo gradito a decine di milioni di utenti in tutto il mondo, grazie alle traduzioni complete in tutte le lingue, italiano compreso ovviamente. Questo perché ogni nuova versione cosiddetta maggiore di Linux Mint, a cifra tonda come la 22, riceve per 5 anni aggiornamenti di sicurezza al sistema, ai programmi preinstallati e a quelli che installi successivamente. Ogni sei mesi, successivi al rilascio maggiore, seguono una versione .1, .2, .3 per un altro anno e mezzo. Ma anche se la procedura guidata è semplice e rapida, non sei costretto ad affrontare un aggiornamento di versione se non lo desideri. Fino ad aprile 2029 la versione 22 e le successive minori riceveranno attenzioni continue. Tra altri due anni sarà rilasciata la versione 23, dotata di altri 5 anni di soluzione. supporto. Con un meccanismo di rilascio che permette quindi la coesistenza di molteplici versioni. Fino alla primavera del 2025 infatti saranno garantiti aggiornamenti e supporto anche per le versioni 20 rilasciate 4 anni fa. E fino al 2027 per le 21. Rispetto ad Ubuntu, Linux Mint non fa capo ad un colosso aziendale in cerca di profitto, ma è un progetto collaborativo. Ad Ubuntu, su cui si basano tre delle sue quattro edizioni, Linux Mint aggiunge semplificazioni e toglie aspetti problematici. Esclude e blocca, ad esempio, lo Store di programmi Snap, sviluppato e mantenuto con tecnologie non open source non trasparenti da Canonical, la società dietro Ubuntu, al centro di discussioni perché allontanatasi dagli ideali di trasparenza del software con rilevanti implicazioni sulla privacy. Trasparenza dei processi e privacy sono fissazioni del team di Linux Mint, orgoglioso di fornire un sistema privo di funzioni di raccolta e trasmissione di dati personali o di utilizzo. Il tuo computer è tuo, non nostro, ha affermato il responsabile del progetto. E chiunque, con le dovute competenze, può verificare che ciò è vero perché il codice di programmazione su cui è basato il sistema è liberamente consultabile su internet. Le esigenze di manutenzione sono minime. Quando il gestore aggiornamenti mostra un pallino rosso, clicchi un pulsante e aggiorni sistema, sicurezza e tutti i programmi preinstallati e installati successivamente. Arrivano quasi quotidianamente, ma non interrompono mai le attività e non costringono a riavviare il computer. Puoi anche impostarne lo scaricamento e applicazione automatica e non ti accorgerai di nulla. In questo modo garantirai il massimo della sicurezza al tuo PC, per il quale non è infatti indispensabile un antivirus come l'ottimo Clam AV. Linux Mint ha una ricca dotazione di programmi, con alcune applicazioni di contorno appositamente realizzate. Questo consente un'esperienza d'uso gratificante e adatta a molti scopi anche senza installare nuovi software. Esigenze di ufficio, multimedialità, driver proprietari per wifi e schede video e supporto per formati audio e video sono integrati. Ma anche scoprire ed installare migliaia di nuovi programmi è assai semplice attraverso gestore applicazioni, lo store di Linux Mint. Sono tutti gratuiti, completi, senza acquisti successivi e non raccolgono dati su ciò che fai. Verificati, sicurissimi e anche aggiornatissimi alle più recenti versioni disponibili. Linux Mint si rivolge ad un'utenza che richiede stabilità ed affidabilità a lungo termine, con esigenze minime di manutenzione, nel solco dei principi della sua parentela con lo storico sistema operativo Debian. La prova ne è anche l'integrazione di TimeShift, strumento per ripristinare il computer ad uno stato precedente se qualche aggiornamento crea problemi. Tra i grandi punti di forza di Linux Mint anche la quantità di informazioni reperibili in rete e l'ampiezza della sua generosa comunità di utenti, che garantisce anche tramite l'ottimo forum in differenti lingue, tra cui l'italiano, di trovare soluzioni e supporto personalizzato in caso di dubbi o problemi. E poi la stragrande maggioranza delle informazioni che ho pubblicato nel blog, nel canale YouTube e nei miei libri sono dedicate proprio a Linux Mint. E poi, vale non solo per Linux Mint, gli utenti italiani possono ricorrere ad uno dei tantissimi LUG, i Linux User Groups, sparsi per lo stivale e direttamente collegati alla Italian Linux Society, cui affidarsi per ottenere supporto gratuito in caso di difficoltà. Torniamo a Mint e al suo recente passato. A partire dalla versione 20 e con le versioni 21, Linux Mint ha subito un processo di profonda rivisitazione della sua edizione Cinnamon. Il meccanismo di gestione delle finestre è stato riscritto ben due volte negli ultimi anni. Per razionalizzarlo, aggiornarlo ed ottenere una stabilità senza precedenti, unita ad un incredibile alleggerimento che ha consentito al sistema di raggiungere un ingombro inferiore ad un gigabyte di memoria RAM. Il meccanismo di connessione a dispositivi Bluetooth è stato sostituito in favore di Bluesman, che supporta un numero superiore di dispositivi, permette maggiore controllo e rapidità di associazione e connessione. Un passo importante è stato quello relativo a Timeshift, il programma integrato per la pianificazione dei punti di ripristino, di cui il programmatore originario ha abbandonato lo sviluppo e di cui il team di Linux Mint ha rilevato il mantenimento, per garantire al sistema affidabilità in caso di problemi assai rari dovuti ad aggiornamenti difettosi. È stata introdotta e perfezionata una procedura di upgrade per tutte le edizioni che permette un aggiornamento di versione facile ad una nuova versione del sistema operativo senza necessità di fare backup, reinstallare e configurare il nuovo sistema. Disponibile anche per LMDE, Linux Mint Debian Edition, l'edizione basata su Debian, sistema che di suo non lo prevede. È stata migliorata notevolmente la gestione degli schermi che introduce anche il ridimensionamento frazionario per ottenere uno zoom su piccoli monitor ad alta densità di pixel. Sono stati ottimizzati e resi più razionali e performanti sia il centro software, gestore applicazioni, sia il gestore aggiornamenti. È stata integrata nativamente nel sistema la gestione avanzata di gesti multi-touch, che si tratti di touchpad, touchscreen o tablet. Questa permette adesso di gestire finestre, aree di lavoro, auto-tiling, cioè affiancamento automatico di finestre e controlli multimediali. Di recente sono state aggiunte nuove gesture per i controlli dello zoom sullo schermo e in specifiche applicazioni che lo supportano. Con Hypnotics vedi in streaming oltre 20.000 televisioni in chiaro di tutto il mondo. Warpinator consente di condividere nella stessa rete file tra PC con Linux Mint, Windows, dispositivi Android e iOS senza alcuna configurazione. C'è Pix, un ottimo programma di catalogazione di foto e fotoritocco di base che consente anche di modificare o rinominare molteplici immagini in un attimo. Può creare PDF o pagine web tramite procedure automatiche ben fatte e trovare ed eliminare duplicati. C'è Web App Manager, che trasforma i siti web che usi di più in programmi con icone e finestre autonome, per confonderle di meno con le schede aperte nel browser. Un'altra novità introdotta con Cinnamon 6 è il supporto sperimentale a sessioni desktop Wayland con Cinnamon, un meccanismo più recente di gestione delle finestre a cui molti sistemi operativi Linux si sono già gradualmente adeguati. Il boss del progetto Mint ha detto che il team non si mette alcuna ferretta per implementare Wayland come soluzione predefinita in sostituzione di X11 e che probabilmente ciò avverrà con Mint 23 nel 2026. Infine il file manager Nemo, l'esplora risorse dell'edizione Cinnamon, ha visto l'introduzione di una nuova applicazione per personalizzare comportamento e azioni eseguibili su specifici tipi di file e cartelle, partendo dal cosiddetto menu contestuale che si apre con un click del pulsante destro del mouse sopra di essi. Finora si potevano solo scrivere appositi comandi in file di testo da posizionare tra i file di configurazione. Ma adesso andiamo al sodo e all'esperienza di utilizzo dopo alcuni giorni per esplorare le novità annunciate e quelle che mi balzano all'occhio nell'edizione Cinnamon di Mint 22 di nome Wilma. Anzitutto sono consigliati computer con più core, almeno 4GB di RAM, almeno un centinaio di GB di spazio su disco e una risoluzione dello schermo non inferiore a 1024x768 pixel. Oppure la tua esperienza sarà sacrificata. Il procedimento di installazione pare il medesimo e con un SSD nel computer è ragionevole che impieghi un quarto d'ora per completarla. Al primo avvio da disco il desktop appare inalterato con lo sfondo tipico e nessuna icona predefinita per evitare distrazioni. Un click del pulsante destro del mouse sul desktop, poi Personalizza e Impostazioni della scrivania permettono di aggiungere computer, home, cestino e dispositivi esterni o di rete. Quello che nota immediatamente un utente di Mint è il carattere di sistema preimpostato, in parte differente. Una nuova versione più moderna, sottile ed elegante del font Ubuntu che non mi fa più correre a modificarlo da Seleziona carattere. Ti accoglie come sempre la schermata di benvenuto, che non è lì per bellezza, ma ti guida, nei primi passi, alle operazioni di personalizzazione e messa a punto per garantire sicurezza e aggiornamenti al tuo computer. Le novità maggiori stanno nella rinnovata base Ubuntu 2404 e soprattutto nel recente Kernel 6.8, un notevole balzo in avanti rispetto al 5.15 delle versioni 21. Questo significa anzitutto una compatibilità hardware molto più ampia a ricomprendere anche componenti di recente commercializzazione. Ho infatti notato subito che il mio fisso, cui in campagna aggiungo un dispositivo USB WiFi più Bluetooth per connetterlo all'hotspot 5G del telefono, non ha avuto bisogno, come in precedenza, del telefono in tethering USB per connetterlo temporaneamente ad internet per installare l'apposito driver. A questo si aggiunge un cambio di strategia Kernel importante per Linux Mint. Con i prossimi rilasci seguirà il programma HWE di rilascio del Kernel, ovvero d'ora in poi sarà equipaggiato sempre con versioni recentissime di Kernel ma con un ciclo di vita più breve. In pratica ciò significa che Linux Mint si mette più rapidamente al passo con le novità grazie ad aggiornamenti Kernel più frequenti. Chi critica Linux Mint perché è sempre arretrata nel supportare hardware e caratteristiche di grido non potrà più dirlo. E tu non dovrai temere di attendere mesi o modificare il Kernel per far funzionare Linux Mint anche in un computer nuovissimo. Lo svecchiamento di Kernel e archivi software ufficiali si vede subito. Apro LibreOffice e con sollievo scopro la recente versione 24.2 a sostituire la 7.3 in dotazione a Mint 21.3. Ovviamente anche altri programmi negli archivi software fanno un balzo avanti di un paio di anni e scopro nuove versioni di Gimp, Audacity, Filezilla, Deluge e altre. Apro il monitor di sistema per verificare l'ingombro di RAM e devo confessare che il nuovo desktop 6.2.6 impegna qualche centinaio di megabyte più di quello 6.0 di Mint 21 e successive. I lavori sotto il cofano di Mint sono stati tanti ed è assolutamente plausibile che nei prossimi mesi e con il rilascio della 22.1 si possa notare un ritorno al di sotto del gigabyte. Nel frattempo ti consiglierei di non affrettarti ad aggiornare a Mint Cinnamon 22 in un computer con soli 4 gigabyte di RAM. Nella prima settimana di utilizzo non ho riscontrato alcun problema e ho potuto lavorare, connettere differenti dispositivi Bluetooth per l'ascolto di musica, la visione di film, anche collegando il proiettore e ovviamente preparare l'articolo blog ed il video con questa recensione. Passiamo alle novità annunciate. Alcune erano state preannunciate e le ho verificate immediatamente. Ma seguiamo l'ordine dell'articolo What's New in Linux Mint 22 di cui si trova il link nel post del blog relativo al rilascio e nella pagina download alla voce New Features, come quella della razionalizzazione, in fase di installazione, del supporto per la propria lingua. Anzitutto il file di installazione include traduzioni complete per sei lingue, tra cui l'italiano. E ciò significa che non è più necessario installare il sistema connessi ad internet per evitare traduzioni incomplete. Ma soprattutto che al termine dell'installazione vengono rimossi tutti i pacchetti di lingue estranee alla propria, limitando enormemente il numero di file inutili nell'installazione e minore ingombro su hard disk. Si legge anche che il server audio predefinito, il software che si occupa dell'instradamento dei segnali audio del computer, non è più il datato e complesso Pulse Audio, ma il più recente, snello e performante Pipewire. Caratteristica che semplificherà la vita a tutti quelli che fanno musica con Linux e non dovranno più applicare correttivi o ricorrere a distribuzioni Linux differenti da Mint per farlo al meglio. Le note di rilascio contengono infatti un nuovo avviso tra quelli utili a risolvere eventuali problemi. Se hai problemi con l'audio, alcuni comandi suggeriti da incollare in una finestra di terminale consentono di rimuovere Pipewire e ripristinare il precedente meccanismo. Quanto al client di posta elettronica, Ubuntu ha scelto la strada di distribuire anche Mozilla Thunderbird nel formato Snap, bandito da Linux Mint 20 in poi. Per questa ragione il team di Mint, e come avvenuto per Firefox, d'ora in poi si occuperà di mantenere il programma aggiornato offrendolo ai propri utenti nel tradizionale formato DEB. Infatti Linux Mint è un'ottima via di fuga per gli utenti di Ubuntu che stanno incontrando problemi con il formato Snap dei programmi loro forniti. In Mint 22 troviamo preinstallato Firefox 128 e anche Thunderbird nella versione 128, che segue il canale di sviluppo ESR, Extended Support Release, adatta ad organizzazioni come istituti, scolastici, università, aziende e altri tipi di organizzazioni che, dovendo distribuirlo su un numero elevato di computer, necessitano di una versione supportata per un periodo di tempo più lungo. Nel mese di maggio ho pubblicato il video un po' tecnico AdWita, Flatpak e il futuro di Linux Mint, a chiarire un paio di annunci importanti rilasciati dal team leader di Linux Mint, Clément Lefevre. Alcune scelte del progetto GNOME hanno complicato la vita per team che sviluppano ambienti desktop differenti da quello GNOME che accompagna l'edizione principale di Ubuntu. Scelta che coinvolge l'ambiente Cinnamon ma anche quelli Unity, Budgie, Mate e XFCE e impedisce ai programmi di rispettare il tema scelto dall'utente. Per questa ragione sia il visualizzatore caratteri che il programma GNOME Accounts, che si trovava in Linux Mint con la denominazione Account Online, sono stati rimossi. Ne sono state create versioni alternativi, compatibili con i temi di sistema che potranno essere adottate anche dagli ambienti desktop appena citati. Gestore applicazioni, il centro software da cui installare programmi aggiuntivi in tutte le edizioni di Linux Mint, è stato ancora rinnovato nell'aspetto e nei meccanismi. Una volta terminata la creazione dell'indice dei programmi disponibili, l'avvio del programma risulta pressoché istantaneo, andando così a risolvere un problema di lentezza sorto dopo la sua ricostruzione durante lo sviluppo di Mint 21. Ma la novità decisamente più eclatante di tutte è una stretta sulla sicurezza dei programmi installabili. Anche di questa avevo parlato in Aduaita, Flatpak e il futuro di Linux Mint. Mint ha da tempo adottato, in aggiunta al tradizionale formato di pacchetti software DEB, quello distro agnostic, ovvero funzionante in qualunque versione di qualunque sistema operativo GNU Linux, Flatpak. Tale formato permette agli utenti di integrare nel sistema con un click tantissimi programmi, anche non open source e proprietari come Google Chrome, Skype, Whatsapp o Spotify, nelle versioni più recenti che si aggiornano all'istante non appena lo sviluppatore le distribuisce. Senza necessità quindi di attendere il rilascio di una nuova versione del sistema operativo e relativi test di integrazione, né di accontentarsi di versioni più datate e prive di nuove funzioni. Ebbene, del rilascio di questi programmi non è responsabile il team di Linux Mint né quelli di altre distribuzioni. Chiunque può pubblicare un programma in questo formato nel più noto dei suoi archivi flathub.org. Ma anche se del programma sono disponibili codici sorgenti ispezionabili e verificabili, il formato Flatpak non lo permette. Il team di Linux Mint si sente comunque responsabile della sicurezza per i propri utenti di installare solo software verificato e sicuro. Solo circa la metà dei Flatpak su FlatHub risulta verificato alla fonte. Il boss di Mint fa l'esempio proprio di Google Chrome in questo formato. Su FlatHub esso risulta non verificato, cioè non è distribuito né direttamente da Google né da qualcuno incaricato da Google. Si tratta di un ignoto e non puoi sapere se sono state inserite funzioni malevole. Eppure dati dimostrano che milioni di utenti abbiano installato Google Chrome in questo formato nella propria distribuzione Linux. Ebbene, con una scelta che un affezionato utente di Linux Mint non può che gradire, il centro software è stato modificato per nascondere per impostazione predefinita tutti i programmi in questo formato che non siano verificati, rilasciati dai responsabili dei programmi stessi né da loro incaricati. E non sarà più visualizzata né possibile alcuna valutazione da parte degli utenti nei programmi Flatpak non verificati. La scelta all'utente non viene mai legata con Linux Mint. Puoi entrare nelle preferenze di gestore applicazioni e abilitare la visualizzazione e installazione di Flatpak non verificati. L'operazione è accompagnata da un chiarissimo invito a non farlo se tieni alla sicurezza del tuo computer. E ogni volta che troverai un software di questo tipo, esplorando gestore applicazioni, un'indicazione ben visibile ti informerà che si tratta di un software non verificato. Linux Mint 22 abbandona ExChat, il programma che supportava il protocollo IRC per le chat in tempo reale. Software che era collegato automaticamente alla stanza di supporto diretto per gli utenti di Linux Mint da parte di volontari. Lo fa per abbracciare il protocollo Matrix con una nuova applicazione web che, tramite un client di nome Element, permette l'interazione in tempo reale non solo per ottenere supporto, preferibilmente in lingua inglese, su Linux Mint, ma per entrare in contatto con realtà nell'universo della rete Matrix. Il team si augura che i propri canali su Matrix forniranno un luogo accogliente e costruttivo per le persone di comunicare e aiutarsi vicendevolmente. Cinnamon 6.2 integra un miglioramento nella gestione delle azioni nella sua nuova applicazione. L'ho citata tra le recenti novità dell'evoluzione di Linux Mint. Se fino a Mint 21.2 per personalizzare comportamento e azioni eseguibili su specifici tipi di file o cartelle, partendo dal cosiddetto menu contestuale che si apre con un click del pulsante destro del mouse sopra di essi, si ricorreva a comandi inseriti in appositi file di testo, la recente applicazione è stata sottoposta ad ulteriori migliorie e rifiniture. Questo grazie ad un editor di menu contestuale che permette di aggiungere, eliminare e riorganizzare le azioni anche in sottomenu a seconda dei tipi di file su cui si effettua il click del pulsante destro. Una caratteristica che permette al file manager Nemo e all'intero desktop di Linux Mint Cinnamon di tenere il passo con quello di altri ambienti desktop e con le possibilità di espansione dei relativi file manager. Le novità non finiscono qui, ma si tratta di piccole integrazioni e migliorie di minore spicco rispetto a quanto illustrato finora. Quindi cosa fare se si è interessati a mettere alla prova Linux Mint? Ovviamente si scarica il sistema operativo dal sito ufficiale, verificando poi l'integrità e l'autenticità dello stesso a fine download. E poi si seguono alcuni dei tutorial che ho realizzato di recente e che sono ancora validi. Preinstallazione di Linux Come installare Linux in modo facile Come installare Linux Mint con partizioni manuali Quanto invece alla configurazione iniziale, subito dopo l'installazione ho pronto un vecchio video, preparato per Mint 20 e valido per Mint 21, che è ancora abbastanza valido. Ma lo sostituirò prestissimo con una versione rinnovata e adeguata a Mint 22, quindi non perdiamoci di vista. Se invece mi chiedi come aggiornare la tua versione di Linux Mint 21 alla nuova, ti dico che solo nei prossimi giorni saranno ufficializzate le informazioni che accompagneranno l'aggiornamento della procedura di upgrade. Ma un punto esclamativo nell'applet informazioni di sistema te ne notificherà comunque la disponibilità. Ricorda di effettuare un backup completo dei tuoi dati e della lista dei programmi con strumento di backup. E anche un punto di ripristino con timeshift prima di provvedere. Quest'ultimo nel caso che verifichi un problema invalidante nel passaggio. Se così fosse, prova comunque a scaricare il file ISO dell'edizione di Linux Mint 22 che preferisci, prepara un supporto USB e installalo da zero. Perché la procedura di aggiornamento tra versioni maggiori differenti può comunque riservare la sorpresa di qualche problema che molto probabilmente non incontreresti con un'installazione cosiddetta pulita. Per trovare aiuto in caso di problemi ti chiedo però di non far riferimento a me perché sono da solo a gestire blog e canale, non so tutto e ho sempre più difficoltà anche solo a leggere i messaggi che ricevo. Una quantità esagerata di informazioni che mi sono richieste in caso di problemi o stranezze io le trovo semplicemente con una ricerca su internet. Chissà, usare a dovere un motore di ricerca non ha bisogno di altro. Ma ci sono tanti altri canali. Oltre al nuovo programma integrato Matrix c'è ad esempio il forum ufficiale di Linux Mint che prevede una sezione anche in italiano. Se conosci l'inglese la sezione internazionale del forum è una miniera di informazioni. Ma puoi ancora fare riferimento al forum di Linux.it o anche a quello di Linux Mind Italia. In tutti i forum citati leggi le regole, effetta una ricerca e se non trovi risposta richiedi educatamente aiuto fornendo tutti i dettagli possibili sul tuo computer e sul problema. In questo Linux Mint ti aiuta perché dà informazioni di sistema che trovi nel menu principale digitando info e premendo invio. Trovi adesso due pulsanti per copiare tutte le caratteristiche del tuo computer per incollarle in un file di testo. Oppure, ancora più facile, per caricare le informazioni online. Al termine dell'analisi i dati, in forma anonima, sul tuo computer sono messi temporaneamente in un sito web e ti viene fornito un indirizzo web breve che puoi comunicare nel forum limitandoti ad escrivere il problema. Ma come non ricordare ancora anche i Linux User Groups? Si tratta di associazioni volontaristiche sparse un po' in tutta Italia che forniscono assistenza gratuita per i problemi più comuni e possono aiutarti a superare lo scoglio iniziale di installazione o configurazione di un sistema se le tue competenze non ti consentono di provvedere da solo. Consulta la mappa dei LOOG e vedi se puoi metterti in contatto con uno di loro per trovare assistenza personalizzata. Infine, non lo dirò mai abbastanza. Con Linux Mint e più in generale con Linux risparmi un sacco di soldi, di licenze software e i problemi di sicurezza derivanti dalla disattivazione di tutte le sicurezze quando installi software illegalmente. Se ti trovi bene con un progetto come Linux Mint, come io faccio da anni in occasione di ogni rilascio e come tanti altri, effetto anche una piccola donazione. Di recente ho spiegato in quali modi Linux si finanzi pur non vendendoti nulla, non tempestandoti di pubblicità e non raccogliendo i tuoi dati per rivenderli. Ho mostrato che, oltre agli sponsor, aziende che supportano assiduamente il progetto, le donazioni spontanee degli utenti di Linux Mint sono quelle che tengono in vita il progetto e permettono agli utenti stessi di beneficiare di un sistema operativo sempre più stabile, rifinito, al passo con i tempi e lontano dalle grandi aziende tecnologiche di cui sei preda finché non fai il salto nel mondo libero del software. Non aspettare che siano gli altri a farlo per te. Grazie per la visione, viva Linux, viva Linux Mint ed il software e i formati liberi. A presto! Grazie!